Le città in Toscana sono contendibili sia a Lucca che a Carrara, abbiamo fatto apparentamenti molto trasversali perché semplicemente sul programma elettorale e nell'interesse delle singole città e queste cittadine lo stanno capendo, io sento un forte vento di cambiamento sia a Lucca che a Carrara e io sono molto positiva sull'esito dei risultati, credo che sia a Carrara che a Lucca daranno grandi sorprese. Quindi nessuno scandalo di un avvicinamento così forte con il candidato vicino a Casa Pound? Non c'è scandalo nemmeno a Carrara per i candidati d'Italia Viva, quindi non credo.